Invisible Touch Genesis, SvrTL1025, è venuta a trovarci Antonella Clerici. Che bello, che bella la radio. Poi d'altronde la musica è radio, quindi... Ma Sanremo è un delirio. Non mi ricordavo, mancavo dicendo, sono sempre abbastanza qui, ma dall'ultimo festival che ho fatto sono passati dieci anni. E com'è questa per ora, che ancora stasera sarai sul palco dell'Ariston e adesso andrei a fare le prove. Quindi com'è questa seconda esperienza? Beh, è divertente. È più divertente perché praticamente tu non hai responsabilità. Perché la responsabilità è tutta di Amadeus, che però ormai di responsabilità non si può neanche parlare perché, insomma, è un festival vincente sotto ogni profilo. Ha superato ogni record, per cui ogni barriera, ogni... Quindi lui lo fa con assoluta leggerezza e io ho maggior ragione anche. Soltanto che è un po' stancante, cioè ho una certa età rispetto a dieci anni fa. E si fa anche una certa ormai. E si fa anche una certa ora, capite? Fatima ha detto, ah, questa sera quando finiremo le due? Ah, le due? Io ho detto, mi cala la palpa, insomma, però... Esatto. Ecco. Ma tu sei di casa a Sanremo anche perché c'è Sanremo Young, no? Come no, Angelo. Con Angelo Baguini abbiamo, insomma, lui faccia parte della giuria e ci siamo divertiti moltissimo. Che ha visto nascere una stella? Tecla, che abbiamo in collegamento. Ciao, Tecla! Pronto, ciao! Ciao! Sei pronta? Sono pronta, sono pronta, dai! Che fa? Ma dimmi l'emozione. Io sono... Penso... Io sono emozionata io che sono una veterana, no? Che devo dire due stupidate. Immagino tu che invece devi cantare e ti giochi un traguardo importantissimo. Senza metterle pressione. No, 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 no. No, no, no. Io sono... In questo momento sono abbastanza tranquilla nella mia agitazione. Sono molto felice e ho voglia di cantare, questo. Ecco, è bello questo perché effettivamente poi la tua musica è quello che è importante in questo momento, quindi è una bella filosofia. Però non facciamo nessun pronostico né niente e vai dritta, porta te stessa, Tecla, no? Antonella, se tu hai un consiglio, non so, che vuoi dare a Tecla... Tecla mi è sempre piaciuta perché si pone com'è, quindi il consiglio è proprio di fare quello che è, di vestirsi come si sente e di cantare come lei sa e non pensando troppo di essere sul palco dell'Aristo. Come io ho sempre detto, quando devo affrontare una cosa importante, io penso sempre, fingi di essere alla prova del cuoco, quindi... Ed è un buon... cioè non puoi pensare... Quindi pensa una cosa bella, un'esperienza bellissima e anche... Adoro, adoro tantissimo. Stasera Tecla si presenta con una padella. Esatto, è un metodo consigliato da Antonella. Esatto. Tecla, allora ti ringraziamo, ti mandiamo un abbraccione e non vediamo l'ora di vederti di nuovo sul palco dell'Ariston. Grazie mille ragazzi. Io ci sarò, eh Tecla, vicino, lontano, ma vicino, ok? Ciao. Ciao, ciao. Ciao Tecla. Allora, Antonella Clerici è qui con noi ancora per poco perché tu hai un sacco di cose da fare. Ma sai, lì se tu perdi lo slot di prove dell'Ariston è la fine perché, capito, adesso ci hanno un po' di ritardo. Stava provando, così vi do ancora notizia, stava provando Gianna Nannini e allora ho detto alla Gianna, che è sempre molto rock, mi piace da morire, e le ho detto, ma c'hai un po'? Sì, perché sono iniziato in ritardo, quindi c'ho ancora un po'. Le ho detto, va bene, allora io vado un attimo a RTL, poi torno e magari decidiamo il cambio, ecco. Meraviglioso. Allora, ti vedremo questa sera, ci puoi dare un'anticipazione sull'abito perché abbiamo memoria di certi tuoi abiti. Eh ma vedrai, vedrai, cioè sai che io sono, allora vesto uno stilista che si chiama Tony Ward, che è un libanese, un arabo, quindi sicuramente non c'è la sobrietà, non è una cosa sobria e insomma molto… Non vediamo l'ora. Mi noterete, ecco, mi noterete. Grazie mille. Grazie a voi, grazie, grazie di cuore. A tra poco. Grazie.